Grazie a tutti. Il giorno in apertura ci occupiamo del cinema pacifico di Sulmona che ha cominciato la programmazione con la nuova proprietà, la nuova gestione, la carica dei 150, il primo film sul podio, partenza col botto per il cinema pacifico, il servizio è di Andrea D'Aurelio. La copia del primo film è stata la terza per incassi nella regione Abruzzo, piazzandosi in classifica subito dopo le multiplex del Pescarese, mentre sono state circa 150 le persone che ogni giorno hanno staccato il biglietto per godersi il film del momento nella storica sala cinematografica di Via Roma. La città riscopre il cinema pacifico grazie alla nuova gestione targata magia cinematografica che si apre al territorio e allarga i suoi confini attraverso una differenziazione di programmazione per tipologie e fascia d'età, con un cinema di riflessione, non di consumo, con tavoli di pianificazione per una partecipazione sempre più ampia da parte dei vari attori del territorio. Dopo l'inaugurazione dello scorso 16 dicembre che ha restituito il cinema alla città dopo il cambio di gestione, le festività natalizie hanno confermato che chi ben comincia a metà dell'opera e proprio il caso del Pacifico che ha fatto registrare da 16 dicembre a 6 gennaio circa 150 presenze al giorno su una sala che contiene 228 posti a sedere. Ma il dato più forte che balza all'occhio è l'incasso di Idea Fortuna, il primo film proiettato, i nuovi gestori, la cui copia è al terzo posto della classifica di incassi della regione Abruzzo, dietro le multisala del Pescarese, avanti film Star Wars proiettato a Digioland. Un risultato che incoraggia Gino D'Andrea, imprenditore che ha investito sul rilancio dello storico cinema, facendosi coadiuvare dal polo scientifico tecnologico e dall'associazione sul monacinema. La città sta rispondendo bene, noi stiamo contenti, siamo partiti alla grande, ha commentato D'Andrea. Cercheremo di coordinarci e di dare un taglio più sul film d'autore. Ci piacerebbe considerare questa sala come la quarta sala di Digioland, questa sala per noi farà parte dello stesso circuito cinematografico, certo saranno collegate, le società sono diverse ma le persone sono le stesse, quindi sarà per forza di cose collegate. La programmazione tiene conto quindi di alcune fasce della popolazione, come gli adolescenti che hanno difficoltà a spostarsi e gli adulti. In questo modo si riesce a creare anche un asse con la multisala di Coffinio, perché solo lavorando insieme si ottengono risultati più efficaci. E di qualche mese fa la visita a Pacentro di Mike Pompeo e con l'occasione venne lanciata la proposta di dare a Mike Pompeo la cittadinanza onoraria di Pacentro. C'è chi si oppone a questa proposta, c'è chi dice no ed è Mario Pizzola dei Comitati Cittadini per l'Ambiente. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Il comune di Pacentro rinuncia all'idea di concedere la cittadinanza onoraria a segretario di Stato USA Mike Pompeo e questa è la richiesta che a nome dell'associazione Un Solo Pianeta, il sulmonese Mario Pizzola rivolge al sindaco di Pacentro Guido Angelilli. Ci chiediamo cosa ci sia da onorare nel comportamento di Mike Pompeo, totalmente appiattito sulle posizioni oltransiste di Trump e dei falchi del Pentagono. Tuona il portavoce dell'associazione. Egli si dichiara deluso dalla posizione assunta dei paesi europei dopo l'uccisione per ordine di Trump e del generale italiano. Per Pompeo le reazioni degli europei non sono state utili come lui si aspettava. Si attendeva forse che gli alleati gettassero altra dinamite nella polveriera del Medio Oriente, come ha detto l'ex vicepresidente riferendosi a Trump. Si chiede Pizzola ricordando che il New York Times ha scritto che la decisione di Trump, presa senza consultare nel Parlamento degli Stati Uniti, negli alleati europei, tra cui l'Italia, è la mossa più rischiosa compiura dall'America e Medio Oriente dopo l'invasione dell'Iraq nel 2003. Trump, spalleggiato da Pompeo, prosegue Pizzola, si comporta come un giocatore d'azzardo. Ma la posta in gioco è quella di un conflitto di vaste proporzioni nel quale potrebbe essere trascinato anche il nostro paese. Il ruolo di Mike Pompeo in questa vicenda non ha nulla di encomiabile. Al contrario, esso rappresenta una macchia indelebile per un paese come l'Italia, che nella sua Costituzione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, da cui la richiesta dell'Associazione al Comune perché ripense alla scelta di conferire la cittadinanza onoraria al numero 2 della Casa Bianca, tornato a Pacentro lo scorso 2 ottobre, proposta che è stata lanciata dall'opposizione. E adesso ci occupiamo di integrazione, quando l'integrazione si fa in parrocchia. Sentiamo meglio nel servizio di Andrea Daurelli. A Cboschi, modello di integrazione, perché includere si può anche e soprattutto in parrocchia. La storia del 25enne originario del Senegal ne è una chiara dimostrazione. Cboschi, richiedente asilo e ospite fino a qualche anno fa in una struttura di Roccaraso, è arrivato da qualche mese a Sulmona, nella parrocchia di Sant'Aga, dalla chiesa di San Filippo Neri. Lì ha trovato il modo di esprimere al meglio il suo talento e di sentirsi valorizzato. Con il suo bongo, su inviro del parroco Don Gilberto Squategui, è entrato a far parte del coro parrocchiale nell'epoca degli insulti razziali dilaganti e dell'ironia che proprio in questi giorni domina sul grande schermo. E a Sulmona destra curiosità, l'esempio di perfetta integrazione rappresentata da Cboschi. Il messaggio del Vangelo ci invita ad essere luce che scopre la bellezza dell'amore di Dio nei fratelli, scrivono dalla parrocchia. Cboschi si è avvicinato timidamente alla nostra comunità qualche mese fa e con grande gioia lo abbiamo invitato a far parte del nostro coro. Lui ha risposto sì, un sì gioioso e generoso perché ha arricchito il nostro coro con un piccolo bongo. Oggi la nostra comunità ha sentito di donargli un nuovo bongo, più grande. La reazione di Cboschi ci ha emozionato tanto, ci ha fatto capire che a volte sono i piccoli gesti, quelli più preziosi, straordinari. Lutto in casa del collega di Centro Abruzzo News Marco Prosperini. Ieri sera si è spento il fratello Renato all'età di 61 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa della Madonna addolorata di Bagnaturo. Al collega Prosperini e all'intera famiglia le condoglianze della nostra emitteto. E adesso passiamo allo sport, al calcio. Ci occupiamo dell'Ovidiana Sulmona. Grandi numeri e positivo esordio la scorsa domenica per i giovani di Stanislao e Falce. Domani intanto per i biancorossi ci sarà l'impegno in Coppa Italia a Scafa. L'Ovidiana Sulmona come un rullo compressore. Nelle ultime sette partite i ragazzi di Pietro Gardilli hanno realizzato ben 28 reti, risultando il secondo miglior attacco del girone B di promozione con 43 gol in totale. Il bomber Orlando Aquino ha raggiunto il 14esimo centro stagionale al terzo posto della classifica marcatori. Numeri importanti per la squadra della città di Sulmona che da tre giornate è la vice capolista indiscussa di questo campionato. L'obiettivo ribadisce sempre il tecnico Gardilli e quello di vincere sempre per... Staccare quelle che ci seguono e sperare che quella sopra noi perda qualche punto in modo che ci avviciniamo. La scorsa domenica contro il Bucchianico è stato buono l'approccio sia all'inizio del primo tempo che della ripresa per quel che è stato un successo più che meritato. A 2 minuti e 51 secondi abbiamo fatto il primo gol e al secondo tempo a 2 minuti e 53 secondi abbiamo fatto il quarto. La gara ha fatto registrare i positivi esordi da titolari per Fernando Di Stanislao e Mario Falce, rispettivamente classe 2002-2003. Sono comportato veramente bene, per me è una fortuna grandissima avere le risorse così. Fernando Di Stanislao, originario di Prezza, proviene dai marsicani del Pucetta. Si tratta di un esterno d'attacco che può giocare su entrambe le fasce. Domenica è stato impiegato per tutta la partita dal tecnico Gardilli. Ho iniziato il campionato col Pucetta, dopodiché sono passato qui a Sulmona. Insomma, sono ritrovato in una bella squadra piena di giocatori molto importanti che ti fanno crescere, ti danno molto aiuto e permettono un percorso di crescita per noi giovani. Impiego per l'intera gara anche per il difensore Mario Falce, che aveva già fatto l'esordio negli ultimi minuti contro il San Salvo lo scorso 14 dicembre. Il giovane calciatore proviene dagli allievi dell'Olimpia Cedas. Sono stati anni molto importanti per la mia crescita e poi, diciamo, subito dopo il settore giovanile, sono stato molto contento di far parte di questo bellissimo gruppo. A proposito di esordi, c'è stato il debutto ufficiale in bianco-rosso per Michele Pio Marino, che dopo 13 gol nello scorso campionato di eccellenza della Basilicata, si appresta a far bene a Sulmona. Marino è un'altra vedere importante che si aggiunge allo scacchiere. Oggi abbiamo fatto un gioco alla mezz'oretta, pure per vedere come sta fisicamente. Si vede da subito che le qualità ce l'ha. L'Ovidiana Sulmona domani scenderà nuovamente in campo per la gara di Coppa Italia in trasferta contro lo Scaffa Passo Cordone. In virtù della vittoria contro l'Elicese per 3-0 nella prima partita del triangolare, ai bianco-rossi basterà un pareggio per passare il turno. Adesso ci occupiamo di calcio a 5. L'Antonio Padovani, Castelvecchio-Subequo, vince le Final 8. Importante risultato così per l'Antonio Padovani, che si aggiudica la Coppa Italia regionale, vincendo le Final 8 della Serie C1 al Paleletra di Pescara. La squadra di Castelvecchio-Subequo ha sconfitto in finale l'Atletico Silvi per 4-2 dopo i tempi supplementari. La formazione del tecnico Andrea Valente è arrivata all'atto conclusivo dopo aver vinto la gara dei quarti con lo Sport Center Celano per 4-1 e la semifinale contro l'Area L'Aquila per 5-0. Adesso per l'Antonio Padovani-Fuzzal si prospetta la fase interregionale della Coppa Italia. Infatti, dopo aver vinto la fase regionale, l'Antonio Padovani accede a quella nazionale. Complimenti e in bocca al lupo all'Antonio Padovani-Fuzzal di Castelvecchio-Subequo. Adesso invece analizziamo la situazione del Sulmona-Fuzzal che torna a casa con la sconfitta ai quarti di finale. Nel telegiornale di ieri abbiamo visto la gara persa contro il Lanciano, gara dei quarti di finale del Final Eight. Si analizza il momento e la sconfitta che ha determinato l'eliminazione. Restiamo umili e continuiamo a lavorare, quanto dichiara il tecnico Benjamin Fonte, che ascoltiamo nel nostro servizio. Tanto hanno meritato loro quanto abbiamo demeritato noi. Hanno giocato meglio, noi siamo stati timorosi, abbiamo sbagliato molto, eravamo timorosi sull'andarci a prendere il pallone per giocarlo. Alla fine ci siamo ripresi un po' con il portiere, abbiamo provato a giocare ma ormai era troppo tardi. Così Benjamin Fonte dopo l'eliminazione del Sulmona-Fuzzal dalle Final Eight in seguito alla sconfitta nella gara dei quarti contro il Lanciano per 6 a 4. L'allenatore dei Biancorossi riconosce i meriti dell'avversario, ma non nasconde che la squadra ha giocato con un pizzico di nervosismo che ha condizionato il confronto, come dimostrano le espulsioni di Junior e Veneziale e il superamento del limite dei cinque falli già nel primo quarto d'ora della ripresa. Ci sta a giocare a calcio, è così. Loro ti provocano e sono bravi, l'hanno fatto all'andata e noi ci siamo caduti. L'hanno fatto oggi, noi ci siamo caduti. Al ritorno vedremo di non caderci, tutto qua. Perché loro praticamente si sostituiscono all'arbitro quando stanno in mezzo al campo. Sono bravi a fare questo, magari l'avessi io i giocatori così. Il Fuzzal dalle Lanciano è stato sempre in vantaggio anche dopo la reazione del Sulmona con il gol di Veneziale sul 2-0. Dal ventesimo del secondo tempo le reti di Palladino, Porcu e Ginetti non sono servite per ribaltare la situazione. Noi siamo una squadra che abbiamo tante potenzialità e poi siamo capaci di, come dire, di mangiarci una montagna e di farci mangiare da una formica a volte. A volte è così, questo è il calcio. Non ci si può appellare a niente. Il Sulmona Fuzzal non è stato favorito nemmeno dei sorteggi in quanto in caso di vittoria avrebbe affrontato in semifinale la vice capolista Atletico Sin. I sorteggi sono stati fatti prima che si sapesse la griglia di posizionamento del campionato e quindi è giusto che sia così. Al di là della sconfitta il tecnico Fonte valuta la partecipazione alle final eight, al paleletra di Pescara come un'esperienza importante che serve a crescere. Come prima apparizione in questo campionato di C1 già fare questa manifestazione non era affatto scontato. Non era detto prima dell'inizio del campionato che noi... Chi avrebbe scommesso di fare la final eight? Nessuno. Nessuno. Chi avrebbe scommesso che eravamo quarti? Nessuno. Quindi dobbiamo ripartire da questo cercando di rimanere più umili possibile e lavorando tanto perché questo è un invito ai ragazzi che faccio. Ultimamente abbiamo lavorato un po' meno e quindi dobbiamo lavorare di più se vogliamo ottenere qualche risultato e qualche soddisfazione in più. L'attenzione del Sulmona Fuzz la torna adesso sul campionato e sulla prossima partita dell'anticipo in trasferta di venerdì 10 gennaio alle 21 contro le Schietti. Dopo il calcio prima di concludere come al solito vediamo la programmazione cinematografica oggi giorno di chiusura settimanale per il Cinema Pacifico di Sulmona e quindi vediamo la programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio. C'è ovviamente il film Tolo Tolo che viene proiettato in due sale nella sala 1 gli orari sono 18 e 10 e 20 e 30 mentre nella sala 2 gli orari sono 17 19 e 20 e 21 e 30. Gli altri film a Ijoland sono Pinocchio con unica proiezione alle 18 e 10 Jumanji The Next Level unica proiezione anche qui alle 21 e 10 quindi grande spazio per il film Tolo Tolo anche alla multisala Ijoland di Corfinio è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con possibili annuvolamenti ma si tratterà di nubi medio-alte stratificate che non produrranno fenomeni la tendenza è verso un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche dalla serata e nel corso della nottata temperature in diminuzione nei valori minimi congelate diffuse sulla Marsica nell'Aquilano e localmente nelle piadure e nelle valli che si affacciano sul versante Adriatico venti deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo le coste che saranno poi in ulteriore attenuazione mare generalmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione attenuazione attenuazione